I motivi per venire al lago di Monte Colombo, al teatro, alle io amici per vedere lo spettacolo Summer Time Show? Beh, ce ne sono alcuni importantissimi. Innanzitutto la location. Quando arriverete al lago vedrete un posto meraviglioso, veramente bello, ricco di arte, di cultura, ma anche d'amore. E poi entrando a teatro, il teatro è meraviglioso e Summer Time Show è meraviglioso. La storia del cinema dal 1926 a oggi, con alcune tappe scelte da me, alcune canzoni e parole scelte da me, appunto perché al pubblico arrivino i nostri pensieri d'amore. Cerchiamo di farvi passare una bellissima serata e cerchiamo di trasmetterevi ciò che siamo, senza veli ciò che siamo profondamente dentro di noi, la verità che c'è dentro di noi. Naturalmente i vostri applausi determineranno anche la vostra verità che arriverà nei nostri cuori. Grazie. Grazie. Grazie.